Malattie reumatiche se ne parla questa sera a Telelibertà nel programma Vivere in salute i giovedì della medicina. Alle 20 e 15 va infatti in onda la sesta puntata condotta e ideata dal professor Fabio Fornari. Ospite in studio la dottoressa Elena Bravi, specialista reumatologa che lavora all'ospedale di Piacenza. Le patologie osteoarticolari colpiscono un'ampia percentuale della popolazione soprattutto nei paesi industrializzati. Le atropatie non colpiscono solo le persone più anziane ma hanno un'alta prevalenza anche nei giovani condizionandone la vita sociale e lavorativa. In Italia ne sono affetti circa 15 milioni di pazienti. Si tratta di patologie osteoarticolari che colpiscono un'ampia percentuale di popolazione e non solo la popolazione anziana ma come vedremo possono interessare anche i giovani e quindi essere causa di problemi di vita sociale e lavorativa.